Andiamo avanti e vediamo come si muove Saturno intorno al Sole. Saturno ha un'inclinazione di 27 gradi, quindi il piano degli anelli segue questa inclinazione equatoriale e in base alla sua posizione rispetto alla Terra la possiamo osservare in modo diverso. Infatti Saturno ci mette quasi 30 anni terrestri a fare un giro completo intorno al Sole e in questo periodo dalla Terra lo possiamo vedere con diverse angolazioni. Qui vediamo una fotosequenza di Saturno presso durante diversi anni che mostra i suoi anelli con orientazioni diverse rispetto alla Terra perché proprio in base a diversi punti della sua orbita si presenta a noi con un'inclinazione diversa. Ora confrontiamo Saturno con la Terra. Ovviamente Saturno è un gigante gassoso, quindi è un pianeta completamente diverso da un piccolo pianeta roccioso come la Terra. Vediamo un po' i confronti. Intanto le dimensioni. Saturno è molto più grande della Terra. Ha una massa che è 95 volte quella della Terra. Infatti possiamo confrontare la sua massa di 5,688 per 10 alla 26 kg contro il 5,97 per 10 alla 24 kg. Come vedete ci sono ben due ordini di grandezza di differenza. Poi ancora la sua superficie è 83 volte quella della Terra. 4,27 per 10 alla 10 km² contro il 5,1 per 10 alla 8 km². Anche qui vediamo due ordini di grandezza di differenza. Su Saturno il giorno è molto più breve. Infatti il pianeta ruota intorno al proprio asse in 10 ore e mezzo contro le quasi 24 ore del nostro pianeta. Saturno è 9,5 volte più lontano del Sole rispetto alla Terra. Infatti dista 1,4 miliardi di km contro i nostri 150 milioni di km dal Sole. Ancora, l'inclinazione dell'asse di rotazione è maggiore di quello terrestri. Quindi, a differenza di Giove, Saturno ha le stagioni e lo vedremo con la comparsa di tempeste periodiche sulla sua superficie. Ma l'abbiamo già visto nella slide precedente perché mostra i suoi anelli in modo diverso durante questo periodo alla Terra. E ogni stagione su Saturno dura circa 7 anni e mezzo terrestri. Poi ancora, la media delle temperature è molto più bassa. Essendo così lontano, la temperatura media su Saturno è di meno 139 gradi centigradi contro i 14 gradi centigradi della Terra. Ancora, Saturno completa la sua orbita in quasi 30 anni, circa 29,5 anni terrestri contro il singolo anno per la Terra. E poi, l'orbita di Saturno è più eccentrica di quella terrestre, con un valore di eccentricità che è 0,056 contro lo 0,017 della Terra. E infine, nonostante la sua grande massa, la sua bassa densità rende la gravità sulla superficie del pianeta leggermente superiore a quella terrestre. Quindi, sulla superficie del pianeta, ovvero sopra la cima delle nubi della sua atmosfera, l'accelerazione di gravità è di 10,4 metri al secondo quadrato contro i 9,81 metri al secondo quadrato per la Terra. Infatti, può sembrare strano che un pianeta così grande abbia una gravità così bassa rispetto alla Terra, però la gravità è un fenomeno che dipende dalla distribuzione della massa, ovvero dalla densità. Saturno ha una grande massa, però distribuita in un grande volume, quindi sulla sua superficie la gravità risulta leggermente superiore, semplicemente perché è molto poco denso. Questo è solamente un estratto della lezione completa su Saturno. Nella lezione completa parlerò della scoperta di altri esso pianeti che orbitano intorno ad altre stelle con anelli simili al nostro Saturno. Parlerò della complessa struttura degli anelli di Saturno e del rapporto che hanno con i satelliti, ovviamente parlerò anche dei satelliti e mi soffermerò in particolare su quelli più interessanti, come ad esempio Titano, in cui spiegherò in modo dettagliato anche la chimica della sua atmosfera. Questo ed altro ancora nella lezione 13 completa del mio corso di astronomia, il pianeta Saturno. Potete trovare questa lezione e tutto il corso di astronomia nel mio canale YouTube e sulle pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Lo Iacono. Grazie